Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. La soddisfazione per aver ospitato e organizzato una grande serata di atletica leggera e il desiderio di far crescere una pattuglia di giovani che amano lo sport. È il Centro Olimpia Piatera Pneumatici Valtellina del presidente Valtel Morinari, che sulla pista di Chiura ha regalato grandi emozioni con la serata dell'atletica. Degna di nota soprattutto la prova dei 110 ostacoli categoria juniores, gara vinta da Vittorio Ghedina, atletica a Meneghina, in 14-17. E qui spiccolo junior Daniele Lanzini, che sotto lo sguardo del suo allenatore Alberto Rampa, si porta a casa un bel 14-46 e il titolo provinciale, migliorandosi di altri 14 centesimi. La gara clou, diciamo, sono state le corse ad ostacoli, in modo particolare nei 110 ostacoli della categoria juniores, dove naturalmente ha corso il nostro atleta di punta Daniele Lanzini. Salto in alto decisamente condizionato dalla pedana bagnata, ma in evidenza la campionessa regionale Sofia Paganoni del Piateda, già settima i tricolori indoor con 1,62. Molti giovani da citare per un movimento continua a crescita, per esempio Matilde Venturini della Polisportiva Albosaggia, Alessia Luzzi del Talamona, Giorgia Branchi del Chiura, ma sono tanti i ragazzi in crescita. Il movimento valtellinese è vivo, diciamo, è vivo soprattutto naturalmente nelle corse campestre, nelle corse in montagna, però si sta ravvivando, diciamo, e crescendo anche a livello di gare su pista. Ecco, ci siamo noi, c'è il gruppo GS Chiuro, ci sono altre società che stanno lavorando proprio sulle gare su pista, ecco, però va incrementato e sostenuto molto di più il settore su pista. Centro Limpia Piatela che è storicamente una fucina di atleti, ma soprattutto avvicina tanti giovani allo sport. Partendo dai più piccoli devono divertirsi quando vengono al campo, devono provare le discipline dell'atletica divertendosi, e poi, secondo me, è giusto anche creare dei giochi propedeutici all'insegnamento delle discipline dell'atletica per motivarli e per appunto farli innamorare di questo sport. Infine, Rampa ringrazia chi rende possibile l'attività sportiva dei ragazzi. Il comitato organizzatore e tutti i collaboratori che sono stati per due ore sotto l'acqua vanno veramente ringraziati di cuore, ma in primis dobbiamo ringraziare i nostri sponsor pneumatici Valtellina, Oil Service e Sigma, che hanno sostenuto questa manifestazione, mentre i primi due ci sostengono sempre dall'inizio, da quando è nata la società. Naturalmente non possiamo dimenticare il sindaco e l'amministrazione comunale che ci sostengono sempre nelle nostre iniziative.